L'intero universo materiale è fatto di particelle infinitesimali alla stregua di elettroni. Per loro natura queste particelle, esistendo in potenza, se non osservate si trovano sotto forma di onde. Sono potenzialmente tutto o niente fin quando non c'è qualcuno che le osserva. Di conseguenza possiamo dire che tutto nella nostra realtà fisica esiste a livello di possibilità. Se le particelle subatomiche possono coesistere simultaneamente in un infinito numero di luoghi possibili, dovremmo essere in grado, tu, io, noi tutti, di far collassare nell'esistenza un infinito numero di possibili realtà. Mi spiego meglio. Se riesci a immaginare nella tua vita un qualsiasi evento futuro che nasca da un tuo desiderio, a livello potenziale quella realtà sognata esiste già nel campo quantistico e aspetta solo di essere osservata. Ciò vuol dire che nel campo quantistico esiste una realtà possibile in cui godi ottima salute, benessere, felicità e dove possiedi tutte le capacità e le qualità che appartengono al tuo io ideale. Mi chiedo allora, che cosa serve perché si attui la magia del condizionamento psico-quantistico? Senza dubbio un'intenzione consapevole della mente, allenata giorno per giorno nel suo compito di osservatore e perseguita come qualunque apprendimento attraverso ripetuti errori e tentativi. Dice Joe Dispenza. Come l'argilla, l'energia delle infinite possibilità è plasmata dalla consapevolezza. Siccome sappiamo la materia è fatta di energia, sia pure ad una frequenza più bassa, a maggior ragione il pensiero e l'energia sono così intimamente correlate da essere scambiate per una cosa sola. Mente e materia sono interconnesse. Il pensiero consapevole influenza l'energia e di conseguenza anche la materia, perché tu sei energia consapevole, ma anche materia consapevole. Secondo il modello quantistico, la realtà fisica è un campo quantico di possibilità, interconnesso e unificato, fatto materialmente di nulla, ma potenzialmente di tutto. L'universo dei quanti vive in attesa che arrivi un osservatore cosciente, te o me, a influenzare, tramite un'intenzione consapevole, l'energia materialmente potenziale del campo per collassarla e trasformarla in esperienze fisiche o eventi nella nostra vita. Noi comunichiamo con il campo quantistico attraverso il pensiero e le emozioni. Un pensiero intenzionale ha bisogno di uno stimolo e l'elemento catalizzatore che dà un'accelerata alla reazione desiderata è rappresentato da una forte emozione, in una parola, mente e cuore che operano all'unisono. Quando ciò accade, il campo quantistico risponde in modo meraviglioso. In fondo è necessario capire un aspetto fondamentale della legge quantistica. Il campo quantico non risponde a ciò che vogliamo, ma a ciò che siamo. Non c'è bisogno di essere scienziati per sapere che ogni nostro pensiero ha una carica elettrica e ogni nostra emozione possiede una carica magnetica. Con i pensieri inviamo un segnale elettrico al campo quantico. Con le emozioni attiriamo magneticamente gli eventi. Cominciamo allora col chiederci che cosa trasmettiamo, consciamente o inconsciamente. Nel campo quantico tutte le esperienze potenziali esistono sotto forma di segnali elettromagnetici per tutti i settori della nostra vita. Capacità di prestazione, ricchezza, salute, felicità. Rifletti. Se fossi in grado di creare un nuovo campo elettromagnetico cambiando il tuo modo di essere in modo che corrisponda a quel potenziale nel campo quantico dell'informazione, sarebbe possibile attrarre l'evento che desideri o anche che quello stesso evento ti venga incontro in modo del tutto inaspettato. Ecco un altro punto da prendere in considerazione. Se vogliamo cambiare alcuni aspetti della nostra realtà, dobbiamo pensare, sentire e agire in modo diverso. Dobbiamo diventare un'altra persona, una persona nuova. Abbiamo la necessità di osservare noi stessi e la nostra realtà con occhi diversi. Dobbiamo imparare a generare un segnale elettromagnetico differente. Non puoi pensare di fare cose diverse se fai sempre le stesse cose. Cambiare la tua vita significa cambiare la tua energia. Quindi ciò vuol dire trasformare radicalmente i tuoi pensieri e le tue emozioni. Se desideri ottenere risultati diversi, dovrai cambiare l'abitudine di essere te stesso e inventare una nuova identità. Come? Allenandoti giorno per giorno a pensare, ad agire, a diventare la persona che vorresti essere. Grazie. Grazie.